Amici bellini, è mercoledì, potreste rispondere così nei commenti, ma voi sarete buoni, sarete magnani, vi è Longobardi, perché voglio dire, non si dice, non si dice, sempre puliti ed educati su questo canale, io vi ringrazio per questo, si deve parlare di calciomercato perché ho una fonte, finalmente ho una fonte, quindi non parlo a vanvera, cominciamo. Allora ragazzi, nel rinnovare, nell'esprimere per la prima volta il cordoglio per gli amici croati che hanno subito un terremoto tremendo, che fa il paio con l'ammareggiata di via Caracciolo, insomma questo 2020 non la vuole finire proprio, la natura si ribella, non lo so, veramente... Non so se miglior, cioè capito, il problema è che non so se migliorerà nel 2021, perché diciamo sempre questa, ah questo 19, questo 2018, nel 2020 li ha superati tutti, non vorrei che poi nel 2021 andiamo peggio, Quindi la mia richiesta è, vi iscrivete al canale, al mio canale, non ve lo chiedo quasi mai, di solito vi chiedo Telegram, ma quello ve lo chiederò a fine video, perché dovete sapere stasera io dove sarò ospite, quindi ve lo dirò a fine. Ma il mercato è quello che adesso tiene banco, ovviamente, e ci sono due situazioni da monitorare molto importanti, perché se, insomma, si susseguono notizie... Non si possono nemmeno chiamare suggestioni, sono notizie false. La bellezza dell'immagine di Dybala con la maglia mezza del Napoli e mezza della Juve, eccetera, eccetera, è bella come immagine grafica, per questo uno la utilizza, ma in realtà è utilizzata per dirvi, la volete finire di dire stupidaggini? Cioè, uno come Dybala, che rifiuta il rinnovo di contratto con la Juventus perché vuole 15 milioni, lo accosti al Napoli, ma cosa accosti? Costa, troppo, costi, tutti Dybala, costi. Quindi cosa la accosti, che è inverosimile, bella e buona, a gennaio prendiamo il giocatore, il secondo giocatore probabilmente più richiesto? Iam, iam, smettiamola, smettiamola di dire stupidaggini, questo è come il video che dovetti fare, facetti fare, che Ronaldo al Napoli, perché pure uscì, se ve lo ricordate, Ronaldo con la maglietta del Napoli, la finiamo, se la smettiamo, perché sennò diciamo Messi e facciamo contenti a qualcuno, invece no, non si fa, ma si devono affrontare le situazioni possibili e plausibili in un contesto dove ragazzi quasi rischia pure che si blocca tutto, perché ve lo ricordate il famoso decreto crescita dove praticamente quando tu consideri lo stipendio dei giocatori lo devi considerare sempre doppio, nel senso che se loro prendono 5 milioni di euro netti all'anno, per farvi un esempio, a bilancio ne sono 10 perché devi aggiungere praticamente quasi il doppio di tasse, cioè devi raddoppiare la cifra per le tasse. Il decreto crescita invogliava le aziende, non solo quelle del calcio, ma le aziende in generale, a prendere nuovo personale con un aiuto sulle tasse veramente sostanzioso, quindi invece che 10, la risultante sarebbe stato 6,5, 7 più o meno, no, come l'ordo, e allora molte società si sono fatti i calcoli. E sono arrivati bei campioni in Italia, è arrivato Lukaku, sono arrivati, che ne so, lo stesso Ibrahimovic, probabilmente loro l'hanno considerato così perché si può fare, veniva dall'estero, quando viene dall'estero si può fare. Forse Ibra, non lo so se essendo stato già in Italia, ma comunque è coinvolto anche il Napoli, perché anche il Napoli con l'operazione Lozano, Elmas, con queste operazioni, Elmas, Demme, lo stesso Simen, il Napoli si è fatto un paio di calcoli e lo paga così, ma adesso la notizia pare che questo decreto debba essere confermato per il 2020-2021, da un DPCG, perché altrimenti qua dobbiamo pagare di nuovo i lordi doppi. Se è così, cioè se Conte e Presidente non si muove a fare una cosa così, qua a gennaio salta tutto il banco, ma non solo per il Napoli, ma per tutte le altre squadre che non possono più fare degli investimenti che vengono dall'estero di un certo livello se non si fanno bene i calcoli, perché devono sapere quanto verranno a pagare. Quindi è un macello. Se tutto questo viene confermato, allora uno ci può ragionare e può pensare che molto del Napoli è legato a stretto giro con l'Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid, interessato a Milik da sempre, quando, ancora prima che prendesse Suarez, dopo la storia, insomma, dei passaporti e dell'esame falso. Loro poi prendono Suarez, accantonano l'idea Milik. Però adesso c'è stata la rescissione ufficiale di Diego Costa, del contratto di Diego Costa, per motivi personali. Non si capisce poi dove andrà, cosa farà. Se va, per esempio, al Real Madrid, deve pagare 15 milioni di tasca sua, che ovviamente pagherebbe poi il Real Madrid, ma sono storie particolari di contratti e di rivalità in Spagna. Però, una volta rescisto il contratto lì, a quel punto, un vice Suarez, che possa giocare anche insieme a Suarez, perché sappiamo che Milik, se mentalizzato, lo può anche fare come a volte fa con Lewandowski, ecco che l'Atletico Madrid potrebbe riaffracciarsi e fare un'offerta per Milik. Piazza gradita al polacco rispetto alle piazze come Fiorentina e come altre, come è la stessa Roma, che lui poi ha sparato alto. Alla Roma ha sparato altissimo di ingaggio, ma anche alla Fiorentina, insomma, offerte, richieste per farsi dire di no, per non andare, alla fine, perché sta bene lui, il cane, la moglie, stanno benissimo dove stanno, a Posilli. Ma attendi, però, via Caraccio, poi è diventato pericoloso. Quindi, non solo Milik, che sarebbe interessante sbolognarlo in Spagna meglio che in Italia, ovviamente, perché poi la siringa è dietro l'angolo. Dall'Atletico Madrid, se, e dico solo se, il Napoli decidesse di cedere Popotta, 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 perché pare che l'interessamento del Torino per Popotta sia concreto, il Napoli potrebbe avere un ritorno di fiamma per Lucas Torreira, che è in prestito all'Atletico Madrid dall'Arsenal, ma nello stesso Atletico Madrid non sta avendo molto spazio. Ragazzi, chi è Torreira? Torreira è Gargano. Torreira è un giocatore che somiglia pure a Gargano, cioè bassino, tosto fisicamente, è uno che non lo smuovi, recupera un sacco di palloni, poi la deve appoggiare vicino perché non ha il lancio, non ha una grande qualità. Però può essere pure che questi sono i giocatori che il Napoli deve avere, nel senso, Fabian, piedi buoni, è lento, è lentissimo, tre volte tocca, non va bene, Bakayoko, fisicità, però è macchinoso, noi vogliamo più sveltezza. Allora forse servono questi giocatori qua, servono i Torreira, servono i Giorginio, servono gli Allan, Amsic, un altro paio di maniche, ma come Amsic puoi identificare Zielinski? Insomma, sveltezza. Allora se tu hai un Demme, un Torreira, uno Zielinski, Bakayoko lo stesso, lo metti dentro perché un po' di fisicità la puoi avere, ecco che si potrebbe anche ricominciare a pensare a un Napoli un pochino più veloce, più rapido nel recupero palloni e più rapido nel cambiare direttamente il fronte quando recuperi palle, insomma. Il problema tattico resta in piedi per un motivo molto semplice, Osimen è ancora fatto male e secondo me tutti, società, Giuntoli, Gattuso, i calciatori sono andati in tilt, sono andati in corso circuito perché si era studiato per giocare con Osimen, tu puoi pure pensare, non c'è Osimen, posso cercare di fare lo stesso lavoro con Mertens, lo posso anche lanciare in profondità a Mertens, Mertens negli spazi si butta, però con Petagna no. Allora lì deve essere immediato lo switch, Gattuso deve dire ragazzi c'è Petagna, si gioca su di lui, è lui che deve mantenere alta la squadra, potete fare un lancio lungo, cosa che con Llorente si è fatto, si sono fatti più cross, allora credo che sono i giocatori stessi che non si fidano tanto delle capacità aerobiche di Petagna e quindi non gliela danno alta, il che è male proprio perché vuol dire che Gattuso non aveva fisicamente la forza per imporsi e spiegare le nuove tattiche ai giocatori con i nuovi giocatori e siamo andati un pochino in difficoltà nelle ultime due partite specialmente, quindi non facciamo drammi ma deve tornare o Simen altrimenti si blocca Llorente, a quel punto teniamocelo e switchiamo, dobbiamo essere in grado di proporre un nuovo tipo di gioco perché non possiamo giocare nello stesso modo quando abbiamo giocatori con caratteristiche completamente diverse. Petagna in una squadra ci può stare, però deve essere una soluzione momentanea, temporanea e in alcune fasi delle partite non puoi puntare su di lui, mi sembra evidente. Quindi, via Bobbotta? Dentro Torreira? Non mi dispiacerebbe più di tanto, non tocchiamo Demme, sento di notizie fiorentina, cose che vorrebbe dare pulgar all'Arsenal, quindi l'Arsenal sta facendo un macello con questi centrocampisti, ma Demme non si tocca perché io con Demme, lo sapete, a rizzo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, stasera vi iscrivete al canale Telegram, vi unite col link che trovate in descrizione e saprete dove sono live e a che ora perché è uno youtuber molto importante, grosso, numeri grossi e quindi dovete seguirmi per forti. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione assorte, si chiama Giveaway da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo, non mi ricordo.